Visita a Taranto del sindaco di Tirania, il primo cittadino Melucci lo accoglie con una promessa presto il gemellaggio tra le due città. Il sindacato di polizia e FSP preoccupato dall'aumento degli sbarchi di migranti a Taranto a fronte di un organico che, dicono gli agenti, deve essere potenziato. È iniziata una tre giorni di controlli a tappeto per evitare i soliti bivacchi sulla costa durante il ponte di Faragosto per i trasgressori, tolleranza zero e sanzioni severe. Di nuovo ben trovati, sempre in diretta edizione provinciale del tre giornale dedicata a Taranto. Gemelle pure diverse, Tirania e Taranto, questa mattina importante step per l'avvio della procedura che porterà presto ad un gemellaggio. Il servizio. È stata firmata a Palazzo di Città, nel Salone degli Specchi, una preintesa per un gemellaggio tra il sindaco di Tirana, Erion Veliai, e il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. L'obiettivo è quello di rinsaldare il legame tra la Puglia e l'Albania, favorendo i rapporti economici e commerciali, ma anche le opportunità di scambio e formazione per i giovani e per finire un'ipotesi di collaborazione per i giochi del Mediterraneo. Festeggiare questo arriva a Taranto di Erion Veliai, giusto? È questa la pronuncia Erion? Sì, sì. Che è il sindaco di Tirana. Voi sapete Tirana non solo è la città più grande, la capitale dell'Albania, è una città in pieno fermento. Erion credo sia sindaco dal 2015, se ricordo bene, e ha impresso a quella città una grandissima trasformazione in termini di innovazione, di protagonismo dei giovani, di riqualificazione urbana. Se ci pensate un po' il percorso che sta compiendo Taranto da qualche anno a questa parte, ovviamente loro si sono messi alle spalle una grande, importante, difficile anche storia politica. Per certi versi noi abbiamo da metterci alle spalle una vicenda industriale anche che ha altrettanto provato questa comunità. Siamo collegati, siamo cresciuti insieme, siamo parte del tessuto umano e in una metafora siamo un'estensione della Puglia. Vicini di casa ma anche cresciuti insieme abbiamo imparato da un altro. Sono molto lieto di essere qui, una città pulita, una città piena di turisti, piena di vita, piena di gioia. Abbiamo capito, particolarmente in Albania, dopo i terremoti e poi dopo la pandemia, che queste sono le cose più importanti nella vita. Break di cronaca perché hanno servito ai clienti del pesce, frutta e verdura scaduta, almeno secondo l'accusa e per questo hanno sequestrato poi otto quintali di cibo dal valore di 15 mila euro circa con attività chiuse. Cinque bar sono stati sospesi per carenza igienico-sanitaria, chiuso un centro medico chirurgico e in tutto sanzioni per circa 50 mila euro. Questo è il bilancio delle attività di controllo condotte dai carabinieri del NAS di Taranto su tutta la provincia, tese a contrastare le più diffuse, purtroppo, illegalità nel comparto alimentare e sanitario. Lo ripetiamo, cinque attività sono state appunto sospese, ma nel dettaglio sono stati sequestrati, pensate, oltre otto quintali tra pesce, carne, frutta e verdura, parte dei quali distrutti, per un valore di circa 15 mila euro. D'altro canto si registrano danni e disagi nel comparto agricolo dovuti al maltempo, alla perturbazione che nella giornata di ieri ha interessato la Puglia e nel dettaglio proprio la provincia ionica, così mentre si attende comunque altra pioggia e speriamo che non ci siano altri fenomeni estremi, andiamo a fare un bilancio dei danni nel servizio di Laura Milano. E' una cosa che non ho mai vista in vita mia, proprio una cosa mai vista. E' qualcosa che non ho mai visto, le parole di un imprenditore che vede con gli occhi come il lavoro, le fatiche e i sacrifici di un intero anno di lavoro siano stati vanificati dalla grandine che ha colpito alcune zone del Tarantino. Non lo so cosa succederà adesso, le conseguenze. Riesce a quantificare il danno? Penso che il danno non si raccoglie quasi niente perché questo sicuramente andrà così allo scarto, diciamo, non è più vendibile. Qui siamo a Grottaglie e questo è ciò che resta o quasi di un vigneto che produce uva da vino, ma come mostrano le immagini non è andata meglio a questa uva da tavola. A poco è servita la copertura del vigneto con teli, la grandine ha colpito ugualmente. Cosa prova un imprenditore agricolo nel momento in cui comincia a vedere il tempo cambiare? Non so, questo tempo non va più bene. Non dico che ti cadono le braccia, ma è critica, è critica. Ieri mi veniva non da piangere. Se lei volesse approfittare di questo spazio, fare un appello alle istituzioni, cosa chiederebbe? La politica non fa niente, però se noi non salvaguardiamo il prodotto, cosa andremo a finire? Cosa metteremo sulle tavole della gente? Perché già la critica della guerra ne sta dando un macello. E' aumentato i teli, questo e quest'altro, i prodotti. La restituzione, se non fanno loro, non lo so dove arriveremo. Sicuramente arriveremo a una cosa che non direi nel ritorno. Secondo me tutti, 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 tutti. Voltiamo nuovamente pagina con il sindacato di polizia FSP preoccupato dall'aumento degli sbarchi di migranti a Taranto. Aumentano appunto gli sbarchi, però il personale di polizia resta sempre lo stesso. Allora si chiedono più agenti, si chiede un potenziamento delle risorse umane. Il sindacato di polizia FSP torna in maniera decisa a parlare della politica migratoria da parte del Ministero dell'Interno che inciderebbe sull'impiego del personale a Taranto. Secondo Rocco Caliandro, segretario provinciale FSP Taranto, il personale della scientifica dell'immigrazione della Digos della squadra mobile impiegato per i servizi connessi agli arrivi come la squadra volante, la polizia amministrativa, quell'anticrimine e i commissariati sono spesso utilizzati per compiti di questo tipo e distolti quotidianamente dai servizi di controllo e prevenzione sulla criminalità. Il sindacato FSP, pertanto, si rivolge al Ministero dell'Interno chiedendo l'immediata aggregazione di personale per affrontare i servizi connessi agli sbarchi e alle operazioni presso il centro hotspot nonché un ripianamento dei trasferimenti nei prossimi movimenti. La segreteria provinciale FSP Taranto è ancora una volta qui a denunciare la fallimentare politica migratoria da parte del Ministero dell'Interno che incide sull'impiego del personale a Taranto già sotto organico e continuamente utilizzato in occasione dei vari sbarchi. Chiediamo l'immediata aggregazione di personale, altrimenti chi dovrà stampare i passaporti? Chi dovrà gestire la sicurezza dei cittadini di Taranto? Le volanti dovranno essere impiegate per l'hotspot? I turisti da San Severo a Santa Maria di Leuca non incroceranno una sola pattuglia dalla Polizia Stadale perché ci sono province nella nostra regione che a malapena riescono a far uscire una pattuglia al giorno e non a turno ma al giorno. Parliamo di un fenomeno sempre più preoccupante dati i tempi, ovvero quello del furto di energia elettrica. Non si ferma l'attività di contrasto al fenomeno da parte della Polizia. Gli agenti del commissariato Borgo di Taranto, in collaborazione ovviamente con i tecnici dell'Enel, hanno controllato un bar nel quartiere Tamburi riscontrando un presunto, per carità, laccio diretto sul sistema del contatore. Il proprietario è stato denunciato e dovrà appunto rispondere dell'accusa, come sempre, tutta da dimostrare di furto aggravato di energia elettrica. I controlli sono stati poi estesi anche in provincia, in particolare ad una piantagione di agrumi nella zona di Palagiano. Anche qui gli agenti hanno trovato un allaccio diretto alla rete Enel, sebbene il contratto di fornitura fosse cessato da parecchio tempo. Ma più in generale sono diversi i controlli a contrasto appunto di questo fenomeno, che sembrerebbe essere sempre più in espansione. A volte si parla di allacci volanti, altre volte invece di veri e propri hackeraggi del contatore. E' iniziata nel frattempo una tre giorni di controlli a tappeto per evitare i soliti bivacchi sulla costa durante il ponte di Ferragosto. E allora per i trasgressori, tolleranza zero e sanzioni severe. I dettagli nel servizio del direttore Gianni Sebastio. Controlli a tappeto durante il lungo weekend di Ferragosto. E' iniziato il servizio anti-bivacco varato dalla Polizia Locale di Taranto per contrastare il fenomeno degli accampamenti e la sosta in area vietata. In particolare, sotto controllo, le zone circostanti Viale del Tramonto nella borgata di San Vito. In accordo con le disposizioni del questore di Taranto Massimo Gambino, le donne e gli uomini della Polizia Locale Ionica sono presenti secondo un calendario di servizio che coprirà le tre giornate più calde. A partire da oggi, tre pattuglie per ogni turno presenti nella zona, mentre domani, domenica 14 agosto, ce ne saranno tre sul primo turno e due sul secondo. Infine, tre sul terzo turno, con un servizio congiunto con le altre forze di Polizia, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Il giorno più caldo, ovvero lunedì 15, giorno di ferragosto, sul primo turno saranno operative due pattuglie, tre nel secondo e due nel terzo, sempre insieme alle altre forze di Polizia. L'augurio è che i cittadini sappiano rispettare spiagge e aree di area pubblica, limitando il lavoro della Polizia Locale al semplice controllo. Non ci saranno sconti per i trasgressori. Andando in scia con quanto fatto negli anni scorsi, rispetto allo stesso problema. Bivacchi, sosta selvaggia, circolazione interdetta. Saranno puniti severamente. Restiamo a Taranto per parlare dello spostamento degli ancoraggi, dei mercantili dalla rada di Margrande verso il Porto Ionico. Si tratta di un obiettivo, di una sorta di mission, di battaglia che Antena Sud intende sostenere e promuovere, e questo affinché i turisti possano apprezzare per intero, senza più compromessi, la bellezza del mare di Taranto. Anche oggi sono stati numerosi i turisti che hanno affollato la città vecchia di Taranto e visitato il Castello Aragonese e il Museo Martà in particolare. Affacciandosi però dalla ringhiera dell'Isola Madre, i visitatori hanno fotografato anche oggi i mercantili in rada. Uno scenario che induce a pensare ancora una volta ad una città ad esclusivo interesse industriale. Eppure lo stesso primo cittadino, Rinaldo Melucci, lo scorso 1 agosto, aveva ufficialmente chiesto alle autorità competenti gli spostamenti degli ancoraggi dei mercantili verso l'area prospicente e il Porto Ionico, con l'obiettivo di realizzare nuove aree di balneazione lungo il waterfront cittadino di Margrande. Un altro obiettivo è quello di virare verso un modello di sostenibilità che tenga in debito conto le potenzialità offerte dalla risorsa mare. E invece, dinanzi agli obiettivi delle macchine fotografiche, delle telecamere, degli smartphone, dei turisti, oggi, e siamo quasi a ferragosto, ancora una volta uno scenario che potrebbe essere sicuramente molto più suggestivo ed emozionante. Ed è una battaglia, quella intrapresa da Antenna Sud, che porteremo avanti anche nelle prossime settimane. In seguito ad un'inchiesta penale in corso della Procura di New York, il Gitti Museum di Los Angeles, questa è una buona notizia, restituirà all'Italia un gruppo di figure di terracotta a grandezza naturale scavato illegalmente nell'area di Taranto e raffigurante un poeta seduto e due sirene. Il gruppo, noto anche come Orfeo e le sirene, è stato sequestrato in seguito ad un'inchiesta in corso, ha spiegato a Lanza Matthew Bogdanos, responsabile dell'ufficio del District Tourney del Contrasto del Traffico di Antichità. Queste statue, le vedete nella foto, risalgono al IV secolo a.C. e furono acquistate per 550 mila dollari nel 1976 dallo stesso petroliere J.P. Gitti, su consiglio del curatore di antichità della Villa Gitti, Giri Frel. Partiranno per Roma in settembre, saranno prime esposte nel Museo dell'Arte Salvata, ma Orfeo, con anche le sirene, torneranno poi a Taranto e arricchiranno il patrimonio archeologico della Puglia. Lo ha detto il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano. E allora, non è così, rientriamo in studio, lo facciamo per darvi appuntamento tra pochissimi istanti con i titoli e le notizie di Brindisi e Lecce. Terribile scontro tra auto sulla provinciale Cegli Ostuni, gravemente ferite quattro ragazze a bordo di una panda trasportata in codice rosso all'ospedale Perrino. La testimonianza di Vincenzo, ambulante di Brindisi, che da 30 anni gira tutta la Puglia e arriva anche in altre città d'Italia con la sua macchina per un zucchero filato. Continua con grande passione questo lavoro, nonostante le difficoltà. Stasera, prima di campionato in Serie A, Brindisi e Lecce, che alle 20.45 affronterà gli interi giallorossi in queste ore e stanno raccogliendo il sostegno di tutta la città e non solo. E allora, le notizie da Brindisi e Lecce. Purtroppo in primo piano la cronaca con gli incidenti stradali registrati in queste ore. Questa mattina quattro giovani ragazze sono state trasferite in codice rosso all'ospedale Antonio Perrino di Brindisi perché rimaste coinvolte in un terribile scontro sulla strada provinciale 22, quella che collega Ostuni a Celle e Messapica. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Fasano e gli agenti della polizia locale di Ostuni. È accaduto poco dopo le 10 di questa mattina le due auto, una Fiat Panda con a bordo le quattro ragazze, la Fiat Punto, sono rimaste coinvolte nello scontro violento. Le quattro giovani estratte dalle lamiere, le vigili del fuoco sono state trasportate d'urgenza in ospedale in codice rosso, il leso invece è il conducente della Fiat Punto. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica del sinistro. C'erano anche gli agenti della polizia locale per ripristinare il normale corso del traffico. Dobbiamo fare un passo indietro, ieri pomeriggio un altro terribile incidente registrato sempre nel Brindisino sulla strada statale 7 che collega Taranto e Brindisi. L'incidente nel tratto tra Oria e Latiano in agro di Francavilla Fontana, uno scontro tra due auto, un'auto si è ribaltata e un giovane di origini marocchine è finito in ospedale. La dinamica la certeranno polizia locale e carabinieri sul posto per i rilievi del caso e anche per cercare di mitigare i disagi causati dal sinistro. L'importante è che stia bene il giovane di origini marocchine alla guida della Mazda che intorno alle 18 di venerdì pomeriggio dopo l'impatto con una Berlinaudi si è capovolta finendo contro il guardrail della statale 7 tra Oria e Latiano in agro di Francavilla Fontana sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale al Perrino di Brindisi insieme a polizia locale e carabinieri di Francavilla per i rilievi del caso il leso il conducente dell'altra auto. Qualche disagio alla circolazione non ha impedito al sorcosso stradale di mettere in sicurezza il tratto a quell'ora piuttosto trafficato. Un altro incidente registrato questa mattina ci spostiamo in provincia di Lecce un'auto contro un furgone sulla via per il mare uno dei conducenti finisce in ospedale in gravi condizioni il sinistro intorno a mezzogiorno di oggi sulla strada statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca all'altezza dello svincolo per Presicce e Salve nell'impatto lo vedete nella foto sono rimasti coinvolti un furgone e un Alfa Romeo uno scontro violentissimo uno dei conducenti è stato appunto trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Tricase e chiaramente maggiori aggiornamenti anche in questo caso nelle prossime edizioni del telegiornale voltiamo pagina torniamo a Brindisi che si sorgerà in un'area in cui per decenni ha avuto sede la stazione meteo dell'aeronautica proprio di fronte alla cala di Materdomini la nuova chiesa parrocchiale Regina degli Apostoli sarà costruita poco lontano dal luogo in cui fino all'Ottocento sorgeva Santa Maria di Materdomini uno tra i santuari medievali più noti del regno di Napoli demolito per far posto alla stazione quarantenaria e poi al parco di Bebilandia la nuova chiesa Regina degli Apostoli si affaccerà sulla cala di Materdomini il quartiere che prende il nome proprio dall'antico santuario e sarà realizzata nell'area appena dismessa dall'aeronautica che ospitava la stazione radio per le rilevazioni atmosferiche da cui per decenni sono partiti i palloni sonda per raccogliere le informazioni meteo in tutta la regione l'Arcidiocesi di Brindisi Ostuni ha presentato formale richiesta di acquisizione dei terreni al Demanio che nel frattempo è tornato proprietario dell'area circa 6.000 metri quadrati mille dei quali saranno occupati dal nuovo complesso parrocchiale con la chiesa, i locali e la casa canonica l'acquisizione dovrebbe essere completata entro novembre e su un progetto curato dall'ingegner Giorgio De Marinis la nuova chiesa dovrebbe essere edificata entro due anni la parrocchia Regina degli Apostoli è nata otto anni fa e ha la sua sede provvisoria presso la chiesa di Santa Maria del Casale e affidata al sanvitese Don Giovanni Prete che ha gestito tutti gli ultimi passaggi compresa la scelta della nuova collocazione proprio di fronte al mare della parrocchia fanno parte i residenti di Materdomini della Sciaia della zona dell'aeroporto e di tutta la litoranea Sina d'Apani essendo il quartiere privo di centri d'aggregazione la struttura religiosa potrebbe rappresentare davvero una svolta per Materdomini soprattutto se il comune dovesse acquisire come ha annunciato più volte l'area dell'ex Babilandia che diventerebbe un parco collegato con la chiesa proprio come Sino a due secoli fa ora vi raccontiamo una storia la storia con alnessa testimonianza di Vincenzo un ambulante di Brindisi che pensate da circa 30 anni gira tutta la Puglia ma a volte supera anche oltrepassa anche i confini regionali con la sua macchina per lo zucchero filato e continua a svolgere il suo lavoro con grande passione nonostante tutte le difficoltà Barbara Magnani Con che spirito si riesce ad andare avanti a affrontare le difficoltà affrontare i rincari e portare avanti un'attività? Adesso è un po' difficile io avendo zucchero filato anche lo zucchero è aumentato è aumentato il gas è aumentato la benzina è aumentato tutto Vincenzo ambulante cinquantenne di Brindisi da 30 anni accompagnato dalla sua macchina dello zucchero filato gira tutta la Puglia e arriva anche in altre città d'Italia per portare come dice lui gioia ai bambini e proprio quella grande passione e amore per questo mestiere riescono a fargli affrontare le numerose difficoltà che in questi tempi accomunano tanti ambulanti come lui Sono 30 anni che lo faccio da quando costava lo zucchero filato 500 lire Adesso quanto lo paga invece lo zucchero? Lo zucchero è arrivato un euro e dieci un euro e venti quando prima lo zucchero lo pagavamo 60 70 centesimi cioè la benzina la strada che facciamo io arrivo a Pisa Livorno me li faccio tutte mi faccio tutte le feste di sopra pure cioè in arte Italia è una vita un po' sacrificata fai la vita di uno zingaro però è una vita bellissima per me Adesso ci sono le elezioni si torna a votare ci credete ancora nella politica? Non tanto non tanto perché si vedono cose belle e cose brutte vi dico le cose belle cioè vedi le città bellissime le cose bellissime cioè poi lo Stato che non va avanti lo Stato non ci porta avanti ci fa sempre aumenti ci fa aumenti 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 il mestiere noi lo facciamo perché cosa facciamo questo mestiere? Per andare avanti lavoro non ce n'è che dobbiamo fare? Lei come vede il suo futuro? Il mio futuro vedo che devo lavorare sempre vicino a macchina zucchero filato una vita Parliamo ora di sanità un medico del pronto soccorso di Brindisi è stato costretto a chiedere l'intervento della procura per poter trasferire un operaio vittima di un incidente sul cantiere in un altro ospedale era una questione di vita o di morte perché si trattava di accertamenti determinanti appunto per salvargli la vita E' stato necessario l'intervento del magistrato di turno presso la procura di Brindisi per far si che un operaio vittima di un incidente sul lavoro e che rischiava di perdere la vita potesse essere trasferito in un altro ospedale visto che il perrino è sprovvisto della radiologia interventistica E' accaduto qualche giorno fa quando l'operaio un 48enne precipitato da un'impalcatura è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Brindisi Qui il medico di turno avendo riscontrato fratture multiple del bacino e un ematoma dello scavo pelvico e considerando il paziente in pericolo di vita ha ritenuto opportuno che fosse sottoposto agli accertamenti di radiologia interventistica Essendo sprovvisto il perrino degli strumenti necessari ha contattato prima il policlinico di Bari e poi il Vitofazzi di Lecce incassando dai colleghi di entrambe le strutture il rifiuto ad accogliere il paziente dopo circa tre ore d'attesa e siccome la situazione rischiava di avere un epilogo tragico avendo il 48enne e continue perdite di sangue il medico ha deciso di contattare il magistrato che stava indagando sulla caduta dall'impalcatura poco dopo con il coinvolgimento anche della direzione sanitaria e del direttore generale dell'ASL il trasferimento è stato finalmente accettato e con un'ambulanza privata perché in quel momento presso il perrino non era disponibile un centro mobile di rianimazione l'operaio è stato trasferito al policlinico di Bari sull'episodio il responsabile provinciale funzione pubblica CGL per la dirigenza medica Cristian Luca Ghezzani ha chiesto un incontro urgente al prefetto sottolineando come al perrino ma anche il servizio di radiologia interventistica pur essendo l'ASL di Brindisi in possesso di un angiografo biplano inutilizzato parliamo ora di sport di calcio ma più in generale parliamo di una comunità in festa per la prima di campionato in Serie A della stagione per il Lecce che alle 20.45 affronterà l'Inter i giallorossi in queste ore stanno letteralmente raccogliendo il sostegno l'affetto l'amore di tutta la città e non solo è tutto pronto per la prima di campionato in Serie A per il Lecce che alle 20.45 affronterà in un via del mare tutto esaurito l'Inter di Simone Inzaghi i giallorossi in queste ore stanno raccogliendo il sostegno di tutta la città e non solo l'amministrazione comunale per fare gli auguri alla squadra di buon campionato e di raggiungere il traguardo della permanenza in Serie A ha pensato ad una specifica campagna di comunicazione caratterizzata dal messaggio forza ragazzi la città è con voi il manifesto affisso sulle planche comunali riporta una foto scattata da Marco Verri dai festeggiamenti avvenuti in città il 6 maggio scorso e il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha ricordato l'importanza della compattezza tra tifosi e squadra anche nei momenti di difficoltà ai giallorossi arrivano anche gli auguri speciali dell'arcivescovo del capoluogo salentino Michele Seccia non lasciamo la società da sola ad affrontare le difficoltà di un torneo così complesso ha evidenziato e se critiche ci dovranno essere qualora i risultati non verranno sempre secondo le attese ha detto Monsignor Seccia siano sempre all'insegna della franchezza dello stimolo e del sostegno parliamo ora di spettacoli domani alle 21 al chiostro dei teatrini di Lecce andrà in scena lo show del giornalista e scrittore leccese Giuseppe Puppo sono abbastanza grande adesso per diventarti amico incontri importanti che segnano e cambiano la vita per sempre è questo il filo conduttore dello spettacolo dedicato alla memoria di Giorgio Albertazzi sono abbastanza grande adesso per diventarti amico dal giornalista e scrittore leccese Giuseppe Puppo che sarà portato in scena domenica 14 agosto alle ore 21 al chiostro dei teatini con la regia di Maria Antonietta Vacca questo spettacolo racconta alcuni incontri decisivi il mio all'epoca 1975 studente del Palmieri dove potei partecipare all'ultima conferenza in pubblico tenuta da Pierpaolo Pasolini prima di morire poi raccontiamo nel 1967 Pierpaolo Pasolini volle incontrare Ezra Pound e ne nacque un evento memorabile per l'intera cultura italiana l'altra storia importante è quella fra Pierpaolo Pasolini e Maria Callas a rappresentare l'ultima scena due giovani attori esordienti dalla scuola di Ivan Raganato allora facciamo interpretare la scena finale proprio che chiude gli incontri decisivi che racconta della ragazza della quale io ero segretamente innamorato qui al Palmieri ma era un amore impossibile perché eravamo diciamo agli opposti ideologici un'emozione che è difficile a spiegare a parole perché la devi vivere per capirla è un'esperienza per crescere per imparare e anche per capire come vanno le cose nel mondo del teatro sono un po' un miscuglio di emozioni grazie ai nostri maestri ce la stiamo mettendo tutta per portare qualcosa di bello in scena prima di chiudere il bollettino sui nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati individuati 1855 nuovi casi covid con un tasso di positività quello registrato oggi che fa segnare il 12.8% quindi in evidente diminuzione rispetto al dato della settimana scorsa quando appunto il tasso si attestava al 15.37% in particolare i nuovi casi suddivisi per provincia 435 nel barese 135 nella bat 182 a brindisi 241 a foggia 495 a lecce e 276 nel tarantino 79 residenti fuori regione e 12 per provincia in via di definizione purtroppo si registrano anche 7 decessi registrati appunto nelle ultime 24 ore in Puglia si chiude così anche questa edizione provinciale del nostro telegiornale restate con noi dopo la pubblicità c'è il TG Sport grazie per l'attenzione e un buon proseguimento rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social e il TG Sport grazie per l'attenzione e il TG Sport grazie per l'attenzione e il TG Sport grazie per l'attenzione Grazie a tutti